Il Natale che non ti aspetti in realtà è proprio ciò che ti aspetti. Bello, colorato, pieno di iniziative e di novità e che abbracci tutto il territorio e le sue eccellenze. Non solo mercatini, anche se di qualità, ma un circuito di splendidi borghi della costa e dell'entroterra che creano una situazione avvolgente e ogni volta diversa. Un continuo da ottobre a gennaio in cui ogni fine settimana può essere vissuto diversamente. Il Natale che non ti aspetti della provincia di Pesio Urbino, messo a punto con il supporto della regione Marche dall'UMPLI provinciale grazie al determinante intervento della provincia, è tutto questo. La strategica posizione delle Marche dal punto di vista geografico, la promozione a livello nazionale ha visto l'arrivo nella scorsa stagione di ben 240.000 visitatori, confermando che il percorso intrapreso nel 2011 sta dando i suoi frutti, perché questo evento diventi il punto di riferimento del Centro Italia per le iniziative di stampo natalizio. Se continueremo a lavorare bene, facendo sempre di più crescere questi eventi, queste opportunità, sicuramente saremo sempre più competitivi e i risultati già si stanno vedendo. I luoghi sono straordinari, le manifestazioni sono molto belle. È diventato ormai il Natale che non ti aspetti un brand nazionale, che dopo i mercatini dell'Alto Adige è sicuramente diventato un punto di riferimento per i turisti a livello nazionale, ma anche all'estero. Sono convinto che negli anni daremo del filo da torcere anche all'Alto Adige perché la bellezza dei nostri luoghi li rende sicuramente molto competitivi. 14 proloco e comitati in rete per altrettanti luoghi dove vivere l'atmosfera natalizia con ambientazioni uniche, artigianato locale, eccellenze territoriali e giovane imprese che mostrano il loro lavoro e soprattutto volontariato senza il quale tutto questo movimento di persone non sarebbe possibile. Se non ci fossero le proloco noi non potremmo fare nulla. Grazie a tutti i volontari di tutte le proloco della nostra provincia, ma in questo caso abbiamo rappresentato e abbiamo oggi presentato il Natale che non ti aspetti, abbiamo presentato un luogo che secondo me è straordinario perché rappresenta veramente la nostra provincia, proprio rappresenta quello che noi abbiamo nel nostro territorio, i nostri borghi e i nostri castelli, il Natale che non ti aspetti della provincia di Piesurbino. Quindi venite nel nostro territorio e venite a visitare i nostri borghi perché non solo il Natale ma ci sono anche da vedere musei e tante altre cose. La Kermes parte dal 25 di novembre con Candelia Candelare per poi seguire Monbaroccio e tante altre località. Grazie a tutti i nostri borghi e i nostri borghi e i nostri borghi e i nostri borghi.